L'antico sentiero che vi stiamo proponendo con queste trasmissioni, avete capito che si snoda su una dorsale, quella dei Monti Lezzini, per secoli l'unica via che metteva in comunicazione le contrade dell'entroterra con la valle. Oddio, con la valle, parliamo di tre valli perché qua parliamo della valle d'Alpone, della valle di Illasi e della valle del Tramigna. Ed è proprio con il signor sindaco Maria Luisa Guadin di Cazzano di Tramigna che noi oggi vi permettiamo di entrare nell'ambito di questo progetto GAL, che è titolato, ricordiamolo, anche Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese. Allora, signor sindaco, ci dica subito un attimo il suo comune, come si sviluppa. Cazzano di Tramigna è un piccolo paese di circa 1.500 abitanti, che è posto tra la Val d'Illasi e la Val d'Alpone. È un paese prevalentemente, diciamo, di agricolo, però nel suo territorio ha veramente delle bellezze naturali, artistiche e storiche che meritano di essere conosciute. Abbiamo noi, come produzioni principali, i ciliegi, le viti, gli olivi, quindi abbiamo una diversità nella produzione in pratica. Abbiamo pure una zona industriale che si sta anche allargando. Quindi è un piccolo territorio con dei gioielli, diciamo, naturali, naturalistici. Che noi è soltanto le Sirese, come si può dire. Cassano è famoso per la mora di Cassano. E la mora di Cassano, il nome, viene dato anche dal lago che abbiamo proprio nel centro della nostra piazza, che purtroppo tanti dicono di non aver mai visto, ma faremo il possibile per portarlo a conoscenza di tutti. Allora, signor Sindaco, questo progetto GAL, così importante che la vede tra l'altro protagonista al suo primo mandato da Sindaco, come si inserisce? Quando sono stata eletta Sindaco mi ha fatto piacere scoprire tra le tante altre iniziative di far parte, come comune, far parte del GAL, di essere un socio GAL. Perché ho capito anche dopo nel tempo, insomma, che veramente il GAL per noi è un sostegno, è un supporto, cioè le opere abbiamo potuto farle o potremo e speriamo di poterne fare ancora proprio perché facciamo parte di questo ente legato al territorio. Ma entriamo un poco più, se è possibile, nel dettaglio. Che tipo di percorso proponete voi? Che tipo di lavoro avete fatto? Praticamente sono stati identificati tutta una serie di sentieri già esistenti, riqualificati e quindi adesso sento anche le persone, in pratica, che sono ben soddisfatte di poter dire abbiamo recuperato nel territorio quelle vecchie strade che prima erano o se no sarebbero comunque rimaste abbandonate. Lanciamo un appello allora ai veronesi e non solo, anche ai veneti. Venite a trovarci, venite a trovarci perché anche nella nostra piccola Val Tramigna sicuramente riuscirete a trovare serenità e anche quella tranquillità che magari la città non sa offrire ovviamente. Venite che noi faremo il possibile per raccogliervi bene. Ve lo ha detto Maria Luisa Guadin, sindaco di Cazzano di Tramigna. Grazie a tutti.